Buongiorno e bentornata sul mio canale. Oggi voglio condividere con te una meditazione per iniziare la giornata alla grande. Questa meditazione l'ho canalizzata stamattina con i miei registri akashici aperti e avevo la testa molto pesante, molto piena di preoccupazione, ero molto ansiosa. Dopo aver canalizzato questa meditazione, che sarà una meditazione fatta non solo a livello statica come una meditazione da fermi, ma a un certo punto diventerà una meditazione in movimento di modo che sbloccheremo insieme tutti i canali, faremo fluire l'energia. Sarà una sorta di, per chi non ha tempo, una meditazione in movimento per fare un po' di esercizio fisico anche la mattina, di modo da sbloccare tutti i canali, far fluire l'energia e sentirci veramente al top. Iniziamo subito. Mettiti comodo in una posizione seduta oppure sdraiato. Possibilmente davanti ad un panorama, davanti al sole, se non ce l'hai non fa nulla. Iniziamo a ispirare aria e ad espirare aria. Fai dei bei respiri profondi. Fai entrare tutta l'aria che senti dal naso. Ed espira l'aria dalla bocca. E ogni volta che prendi un'ispirazione, immagina come se dentro il tuo naso stesse entrando della luce bianca. Una luce bianca che va ad inondare tutte le tue cellule, tutte le cellule del tuo corpo, le bagna come fosse ruggiata, come delle piccole gocce di ruggiata su tutte le tue cellule. Le va a rinfrescare, le va a nutrire, le va a depurare. Ed ogni volta che espiri, cacci fuori dalla bocca il fumo nero, pensieri negativi, rabbia, paure, angosce. E continui così, ispirando questa luce bianca che entra nel tuo corpo. E' una luce che porta gioia, una luce di sorriso. Mentre ispiri, sorridi. Porta questo sorriso a tutte le tue cellule. E quando ispiri, togli via tutto il fumo nero dal tuo corpo, dalle tue cellule, tutte le ansie, tutte le angosce, tutte le paure. Adesso immagina tutta l'energia del mare. Immagina proprio il mare con le sue onde che sbattono sulla sabbia. Con il sole che luccica sulle onde. Come in una giornata d'estate. Immagina tutta l'energia del mare che entra dentro di te. Che ti rinfresca tutta la spuma delle onde del mare. Frizzante. E tutte le tue cellule anche si sentono così. Frizzanti. Adesso immagina l'energia delle nuvole. Che scorrono sempre leggere. E che quando sono cariche, quando sono cariche di pioggia, semplicemente lasciano andare, si strizzano da sole. Lasciano andare la pioggia, non la trattengono. Così come tu. Con le tue emozioni. Con i tuoi pensieri. Con le tue ansie. Li strizzi. Li lasci andare. Li fai scorrere. Non li trattieni. Li accogli. E poi li lasci andare. Li accogli. E poi li lasci andare. Adesso immagina l'energia del vento fresco. Della brezza del mare. Che ti entra nel naso. Fresco. E pulisce ogni tua nuvola. Spazza via ogni ansia. Adesso immagina l'azzurità del cielo. Entrare dentro di te. E portare calma. Pace. E' una gioia. Ma è calma. Il cielo ti sta dicendo. Ci pensa l'universo. Non devi preoccuparti più di nulla. Ci penso io. Affida a me tutte le tue prevenzioni. Pensa solo ad entrare in questa danza. La danza cosmica della vita. In questo momento. Immagina davanti a te. Nella savana. Gazzelle. Gazzelle. Leoni. Antilopi. Elefanti. E uccelli bellissimi. Nelle foreste. Sono già svegli. E stanno celebrando già la vita. Ispira la freschezza di questa nuova giornata. Ispira e uff. Lascia andare. Puoi riscrivere tutto. L'universo ha già premuto il tasto reset per te. Le energie bloccate di ieri. Sono già scivolate nel cuore della terra. Nel cuore di cristallo della terra. Che le ha pulite e riciclate. E ora. Sono tornate ad essere nuvole bianche e fresche. Spumose. Che stanno viaggiando. Che stanno andando chissà dove. Che meraviglia. La senti adesso la leggerezza eh? Tutto adesso scorre fluido e leggero. E ringrazio per questa sensazione. Grazie. Perché la vita è così. Niente è mai bloccato. È sempre tutto una danza. Non si blocca mai. Tutto fluisce sempre e continuamente. a volte le sensazioni di blocco che hai sono solo delle illusioni della mente. Nell'universo tutto scorre. sempre. Tutto è in continua mutazione. E questa è la meraviglia. Accompagna questa sensazione di flusso. Adesso con dei movimenti del tuo corpo. inizia a muovere le mani. Adesso iniziamo la seconda parte della meditazione. Preparati. Adesso inizia piano piano. A muovere la testa. Lasciati andare, tanto non ti vede nessuno. Adesso inizia a muovere le mani. come se fossero dei serpenti. Come se fossero dei serpenti. Abbandonati proprio al flusso dell'universo. Fai tutti i movimenti che vuoi. Abbandonati. Puoi fare anche dei movimenti con il bacino per sbarcarlo. inizia a muovere le mani. Apri, apriti. Quando ti apri, espiri e quando chiudi, espiri. apri, 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 abbandona e tocca i gomiti, con i gomiti la pancia, chiuditi proprio, apri, 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 di grazia all'universo, sorride e grazie, grazie a questo corpo, ringrazio per tutte le cose per cui sei grata, grazie per questo corpo, grazie per queste braccia, sblocca un po' il bacino perché qui si bloccano la maggior parte delle nostre emozioni, quindi se fai dei movimenti così, tipo la hop, è molto buona per liberare le emozioni, e poi ti puoi muovere, sì, esattamente, fai tutti i movimenti che vuoi, anche con la pesca, lasciati proprio andare, non ti vedi nessuno, lasciare le spalle, portare avanti, adesso portare indietro un passaggio ai reni che in Cina vengono chiamati Ming Meng, ovvero la porta principale, ed è da qui che offrisce tutta l'energia, quindi andiamo a riscaldare, così, e poi andiamo a dargli dei piccoli colpetti, mettiamo anche un po' di cittadini, e stiamo proprio, stiamo russando sulla porta dell'albitario, ok, adesso vi gonfiamo come se fossero dei palloncini, ok, mi metto di lato così mi vedete, andiamo a mettere aria dentro il Ming Meng, via! e andiamo a mettere aria dentro il Giacomo Ok, fai un altro body stretching. Streccia dove senti che il tuo corpo ti dira di più? Allora lì devi strecciare. Ok. Come ti senti adesso? Io di solito dopo che faccio questa meditazione in movimento, diciamo, mi sento proprio rejuvenata, mi sento proprio rinvigorita, ringiovanita. E sono pronta per iniziare la giornata. Non c'è bisogno che tu faccia delle cose chissà che cosa, chissà quali movimenti. Inizia con queste piccole cose, inizia a sentirti proprio questo fluire nel tuo corpo. Il tuo corpo vuole fluire con la vita e questo senso di fluidità poi vedrai che te lo porterai anche durante tutta la giornata, è sicuro, perché per me funziona così. E se ti è piaciuto questo video iscriviti al mio canale, lasciami un like, scrivimi qua sotto nei commenti se anche tu fai qualcosa di simile la mattina e ci vediamo al prossimo video. Ah, dimenticavo, ho appena scritto una guida, si chiama I tre segreti per attrarre l'uomo giusto nella tua vita e lo puoi scaricare dal link che ti lascio qui sotto nei commenti. Ciao!